Musica Vandali al Vomero, pizzeria devastata, distrutto dalle fiamme il dehors di un noto locale, amareggiati i titolari che però assicurano andiamo avanti. Fermato dalla polizia il presunto autore, nuovo appello a piante dosi per la sicurezza in città. Gestione rifiuti in Campania, svolta sempre più vicina, Vincenzo De Luca inaugura il nuovo impianto di compostaggio di Salerno e annuncia entro il 2024 stop alla procedura di infrazione dell'Europa, poi nuove accusi al governo su sanità e taglio dei fondi per la cultura. Pizzo sui gadget del Napoli, se non paghi ti ammazzo, le mani della criminalità di fuorigrotta sullo scudetto azzurro, quattro arresti, ambulanti costretti a versare 500 euro al boss Luigi Troncone e ai suoi parenti e per chi si rifiutava scattavano le minacce di morte. I fedeli di Chiusano al fianco di Don Antonio, la vicenda del parroco del piccolo centro irpino che ha lasciato l'abito talare per amore di una donna, al nostro microfono il sacerdote ribadisce, segue i sentimenti e non torna indietro, la vicinanza della sua comunità. Agricoltori in presidio, appello alla regione, prosegue ad oltranza la protesta dei trattori del Sanio, il comparto in lotta, chiede il sostegno dei SID, c'è il lancio a un SOS all'assessore Nicola Caputo, ma intanto il fronte si divide, spaccatura tra le associazioni di categoria. Napoli-Politano rinnova, ma il mercato non decolla, sfumato Perez, il club non sembra intenzionato ad avviare altre trattative, la salernitana accelera, fatta per Boateng, altri colpi d'arrivo. In Serie C il Benevento saluta e l'acquisto Nardi, l'Avellino mette nel mirino il Monopoli. Questi erano i titoli di stasera, ben ritrovati con l'informazione di 8 Channel News. In apertura a Napoli, gazebo di una pizzeria in fiamme al Vomero, danni ingenti, le rapidi indagini della polizia hanno permesso di individuare il responsabile, si tratterebbe di un ex dipendente. Vediamo il servizio. Un incendio divampato nella notte ha completamente distrutto un gazebo installato in via Scarlatti, nel cuore commerciale del quartiere Vomero, che ha distrutto la struttura di una pizzeria. A intervenire per primi è stata una pattuglia della polizia locale, che era in transito nella zona di piazza Vanvitelli. Il personale della municipale ha delimitato l'area e ha provveduto ad allontanare una persona che si trovava nei pressi del gazebo invaso dalle fiamme. L'incendio è stato spento grazie all'immediato intervento dei vigili di fuoco, che hanno scongiurato ulteriori danni. Ci hanno danneggiato la parte esterna che adesso dovremo rifare e ricomprare. Io non ho sospetti perché una cosa del genere, non avendo nemici, non avendo nessun tipo di problemi con nessuno, non saprei chi l'abbia potuto fare. Però la polizia sta acquisendo tutti i vari filmati della zona e credo e spero che risalga chi abbia potuto fare una cosa del genere. Intanto da una prima analisi delle immagini di videosorveglianza sembrerebbe confermare l'ipotesi dolosa. La polizia ha individuato e sottoposto affermo di polizia a una persona. Secondo quanto emerso dalle rapide indagini degli investigatori, il movente non è riconducibile a dinamiche criminali o rivalità tra commercianti della zona, quanto a un litigio con un ex dipendente. Ma resta la sostanza di un'emergenza sicurezza su cui chiediamo ancora una volta attenzione e risposte. Così, in una nota congiunta, Gennaro Acampora e Maria Grazia Vitelli, consiglieri comunali di Napoli. Svolta in campagna sui rifiuti, l'ha annunciato il governatore Vincenzo De Luca, a margine della consegna del nuovo impianto di compostaggio a Salerno. La struttura, auspicato De Luca, permetterà alla regione entro la fine dell'anno di eliminare l'infrazione dell'Unione Europea di 120.000 euro al giorno. Sentiamo Sara Botte. Una tra le strutture più all'avanguardia d'Italia, il governatore Vincenzo De Luca, ha presenziato alla fine dei lavori di riammodernamento dell'impianto di compostaggio di Salerno per il trattamento della frazione organica, un risultato importante soprattutto perché porterebbe alla chiusura della procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea aperta nel 2015 per la gestione dei rifiuti in campagna, che potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Ci aiuta questo impianto a eliminare la sanzione europea di 120.000 euro al giorno. Già l'abbiamo eliminata per la metà. Entro l'anno contiamo di eliminarla completamente, ma dobbiamo completare il ciclo dei rifiuti e la rete di impianti di compostaggio. De Luca è poi tornato alla carica sui tagli sui fondi alla cultura che stanno mettendo a rischio tantissimi eventi in regione. È qualcosa di irresponsabile, di vergognoso, di intollerabile e di offensivo per il mezzogiorno Italia. Come voi sapete gli accordi di coesione sono stati firmati dal governo italiano con tutte le regioni del nord più il Lazio. Nessuna regione del sud. È una vergogna. Il presidente De Luca ha inoltre annunciato una mobilitazione importante anche sulla questione sanità. Non c'è una sanità del nord che è eccellente, ma c'è una sanità del nord che è eccellente per il 10%, ma che per il 90% è fatta di affarismo e di camorrismo istituzionale. In casa aveva soldi, droga e orologi di lusso. Uno dei quattro arrestati stamane all'alba nel blitz Anticamorra che a Napoli ha decapitato il clan Troncone. Minacce di morte e 500 euro di pizzo da saldare per poter vendere i gadget del Napoli. Vediamo. Violenti e spietati pronti a tutto per riscuotere il pizzo nei giorni d'oro della festa dello scudetto del Napoli. Non avevano mezze misure Giuseppe, Vitale e Troncone, vertici dell'omonima famiglia malavitosa decapitata oggi con quattro arresti notificati dai carabinieri del comando di Napoli. Ora ti sparo una botta in fronte e non ho paura di nessuno neanche di ucciderti. E ancora, devi dire a tua moglie che non deve intromettersi, non ho paura di uccidervi. Per colpa tua mio figlio è armato e sta rischiando questi alcuni dei particolari delle pratiche con cui estorcevano Danaro. La vittima è un'ambulante del quartiere Fuorigrotta costretto a pagare il pizzo affinché la moglie potesse vendere i gadget del Napoli e anche ad acquistare ingenti quantità di sigarette di contrabbando a prezzi maggiorati che non era in grado di vendere. Nel settembre 2023, secondo quanto riferito, la vittima sarebbe stata anche minacciata di morte in quanto in quell'occasione non era riuscito a corrispondere la somma di 500 euro. Ad interfacciarsi con l'ambulante, armato di pistola in sella ad uno scooter, in quell'occasione fu Luigi Troncone, cognato del Bosso Vitale. Il giorno dopo, la vittima, per timore di ritorsioni ai danni suoi della moglie e dei suoi figli, avrebbe consegnato la parte mancante del denaro richiesto dal Bosso, appositamente recatosi per il prelievo. Durante le perquisizioni di questa mattina all'alba, arrestati anche i due coniugi, in casa avevano soldi, orologi e droga. Nell'abitazione i militari hanno sequestrato 20.000 euro in contanti, decine di dosi di cocaina, diversi orologi di pregio. L'uomo è finito in carcere, mentre la donna è ai domiciliari. Andiamo nella Vellinese adesso a Chiusano San Domenico. A 8 Channel parla Don Antonio Romano, il parroco che ha annunciato di lasciare l'abito talare per essersi innamorato di una donna. In paese non si parla ad altro, molti concittadini sono con lui e lo rispettano. Vediamo. Sono fiero di voi. Don Antonio Romano, il parroco di Chiusano San Domenico, che ieri sul suo profilo Facebook ha annunciato di essere innamorato di una donna e per questo lascerà il ministero sacerdotale, ringrazia i suoi ormai ex parrocchiani per gli auguri e gli attestati di stiva che gli sono stati rivolti. Ed effettivamente, in paese ormai non si parla ad altro. Come la vita alla capa, così è fatta, non è da mettere conto a nessuno. Giustissima. La vita è fatta così. Ognuno deve scegliere quello che vuole. Un ottimo prete fino a questo momento. Poi che Dio lo benedice. Sono in contrario, assolutamente. Perché lui è giurato non sei Gesù Cristo, no? E doveva stare a posto suo. Un travaglio interiore, una decisione maturata a lungo e sofferta. Non posso tradire la mia natura e andare contro i miei sentimenti, ha detto, annunciando che presto, dopo la sentenza della Sacra Rota, si sposerà. Madonna Antonio continuerà a stare dalla parte degli ultimi e di chi soffre. Farò un missionario laico, visto che non potrò farlo da prete, continuerò a fare questa missione che porta avanti da più di dieci anni, di andare ogni anno in Africa per aiutare i bambini del Burundi. Per il parroco, poi, è arrivato il momento che la chiesa si apra ai preti sposati. Penso che sia arrivato anche il tempo maturo per rivederlo e di imitare anche la chiesa ortodossa, no? Anche se ovviamente è limitato, perché il prete sposato ha una famiglia, una moglie, i figli, ma io penso che metà prete è meglio di zero rispetto alle vocazioni che non ce ne sono. Ma anche in quel caso, nel caso di una chiesa che apra ai preti sposati, nessun ripensamento. Mi sentirei ingabbiato nella mia libertà. Andiamo a Cicciano, concorso pubblico truccato e corruzione per concessioni edilizie. Arrestati l'ex sindaco Corrado e due consiglieri comunali. Vediamo. L'ex sindaco di Cicciano, Gianni Corrado, in carica fino al 2023 figura tra i quattro arrestati dai carabinieri nell'ambito di un'indagine su presunte irregolarità in un concorso pubblico. Con lui sono finiti in manette due consiglieri comunali del Comune del Napoletano, attualmente in carica, e un imprenditore. I quattro indagati sono iniziati in concorso del reato di induzione in debita a dare o promettere utilità. Corrado era già stato sottoposto agli arresti domiciliari per un'altra causa. Nello scorso settembre era stato coinvolto in un'inchiesta per corruzione, concussione e falso in atto pubblico insieme a un funzionario comunale e un imprenditore. Nel corso dell'operazione è stato eseguito anche un decreto di presquisizione e sequestro dei confronti di un imprenditore edile indagato nella stessa inchiesta, ma non raggiunto da misura cautelare. Le indagini che hanno portato all'ordinanza eseguita oggi sono state condotte dal nord della compagnia di Nola. Da agosto 2022 fino a giugno 2023, con il supporto dei carabinieri della stazione di Cicciano, è nate da alcune irregolarità rilevate in un concorso pubblico al Comune. Secondo la ricostruzione degli investigatori e avallata dalla Procura, ci sarebbe stato un accordo corruttivo per l'ottenimento in debito di un'autorizzazione edilizia riguardante una vasta area industriale nel territorio comunale. Le risultanze investigative hanno portato all'ordinanza di misura cautelare personale, poi emessa dal Tribunale di Nola. Andiamo nel Salernitano. L'affidamento ad una ditta di famiglia nell'appalto per la pubblica illuminazione. Sono sei le persone indagate dalla Procura di Salerno nell'inchiesta che riguarda il Presidente della Provincia, Franco Alfieri, che però si dice sereno. Le opposizioni invocano trasparenza. Vediamo. Sono sei in tutto le persone destinatarie di un avviso di garanzia da parte della Procura di Salerno, che ha acceso i riflettori sulla gara d'appalto per la pubblica illuminazione nel comune di Capaccio Pestum. Tra queste anche il Sindaco e Presidente della Provincia, Franco Alfieri. Nel mirino della Guardia di Finanza, l'affidamento ad una società di famiglia di proprietà della sorella di Alfieri. Dopo le perquisizioni delle fiamme gialle, l'esponente politico si dice tranquillo. Io continuo a lavorare con grande serenità perché io devo dar conto alla fiducia dei cittadini e io ho fiducia nelle istituzioni, nella magistratura, negli organi che fanno il loro mestiere e il loro dovere. La verità trionverà sempre, come è sempre trionfato. L'attività investigativa è arrivata anche al comune di Battipaglia. La Sindaca però chiarisce che l'amministrazione è del tutto estranea alla vicenda. Da noi siamo venuti in maniera serena. Erano tre finanzieri del comune di Eboli a prendere delle carte perché la ditta in questione è la ditta che ormai gestisce l'illuminazione pubblica in molti comuni della Piana e non solo. E quindi siamo venuti a prendere questi documenti in maniera molto serena. Intanto le opposizioni attendono gli sviluppi investigativi ma invocano trasparenza. Le cose che leggiamo sono raccapriccianti però le analizziamo da un punto di vista politico perché da un punto di vista giudiziario ci penserà la procura. Ripeto, noi abbiamo sempre avuto animo garantista. Ovviamente ci occuperemo però a Capaccio, in provincia, di verificare gli appalti. Nel Sannio prosegue a oltranza la protesta degli agricoltori che ora chiedono un intervento dei sindaci e dell'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo. Sentiamo Fallarino. Non sono intenzionati a mollare gli agricoltori sanniti in presidio da ieri alle porte di Benevento dopo la maxi manifestazione che ha visto oltre 150 trattori sfilare per le strade della città. Promettono di poter restare in quel posto per giorni e non escludono ulteriori manifestazioni che vadano al di là del presidio. E se da un lato si accentua la spaccatura con le associazioni di categoria come la Coldiretti, la CIE e la Confagricoltura dall'altro i manifestanti invitano le istituzioni al presidio a partire dai primi cittadini. Oggi facciamo l'invito a tutti i sindaci, all'assessore regionale perché comunque già sono trascorsi due giorni e purtroppo non si è visto nessuno. Il nostro invito va proprio a loro e noi stiamo qui, abbiamo delle tematiche, dei punti programmatici ne vogliamo discutere insieme resteremo qui per altri 20, 30, 40 giorni fin quando loro non verranno qui. Manifestanti da nord a sud chiedono la revisione completa delle politiche agricole europee e dicono no all'assistenzialismo agricolo per restituire potere economico all'intero comparto. Le difficoltà delle imprese agricole oggi sono infinite un settore che purtroppo da decenni naviga in una situazione difficilissima e non viene diciamo sostenuto a livello né nazionale né europeo soprattutto le associazioni di categorie sono state totalmente assenti. Il cuore dell'agricoltura lavora nei campi e quindi conosce le proprie difficoltà e le vuole far conoscere a chi ci rappresenta. Aveva minacciato la donna con la quale aveva avuto una breve relazione di pubblicare i video girati ad insaputa della compagna. Un 57enne della provincia di Avellino è stato arrestato dai carabinieri su richiesta del procuratore capo Domenico Ayroma. Le indagini erano scattate nell'ottobre scorso. Al via a Secondigliano il festival di letteratura BIS istituzioni, associazioni e ragazzi uniti per portare la lettura nelle strade di Napoli. Vediamo. E' appena cominciato a Secondigliano presso la biblioteca Guido Dorso il Booking to Street Secondigliano BIS, festival di letteratura per ragazzi realizzato grazie alla collaborazione tra la Marotta e Caffiero Editori e la Municipalità 7 del Comune di Napoli. BIS dunque giocando tra inglese, dialetto e nuove prospettive. BIS perché vorremmo che questo evento diventasse appunto annuale per cui vogliamo sempre il BIS di questo festival e poi l'acronimo di Booking to Street Secondigliano perché ci piacerebbe appunto invadere le strade di Secondigliano con i libri, con la cultura. Già con questi altri giorni abbiamo portato in periferia Secondigliano grazie anche alla settima municipalità che ha creduto fortemente nel nostro progetto teatro, musica, letteratura grandi nomi del calibro di Lorenzo Marone e Marco Zurzolo. Un'iniziativa significativa per il quartiere che ha trovato largo entusiasmo. Iniziamo oggi il festival dell'infanzia e della letteratura dell'infanzia per i ragazzi, per i giovani del territorio un'iniziativa importantissima grazie al progetto e alla sinergia con gli editori Marotta e Cafiero che hanno accolto il nostro progetto il progetto della Giunta di portare qui a Secondigliano e naturalmente nella zona nord di Napoli un festival della letteratura. Torniamo ad Avellino rivoluzione traffico al centro storico la rabbia dei commercianti di Corso Umberto una follia, un nuovo colpo in danno di residenti e commercianti. Rivoluzione traffico nel centro storico di Avellino a Corso Umberto che sarà la porta di accesso della città per chi arriva da Tripalda con senso unico a salire per le auto e a scendere invece per la metro leggera. Noi abituati a camminare a destra dobbiamo camminare a sinistra poi se non ci sta il parcheggio le nostre attività muoiono. Intanto nella parallela lungo via Circonvalazione zona Conservatorio le auto potranno invece scendere in direzione a Tripalda mentre la metro leggera potrà salire in direzione centro. I posti auto in questo caso sono ormai pochi perché essendo a senso unico era più facile a meno accostarsi per le attività commerciali cinque minuti e fare la spesa e poi andare via. Un po' di amare in bocca ci sta perché dopo sei mesi di sofferenza ora quest'altra abbatosta. Ma i commercianti sono su tutte le furie per una scelta che a loro dire penalizzerà gli affari e concessionerà la zona. Sicuramente da rivedere perché via Circonvalazione a salire e col Sumberto I a scendere era la Circonvalazione naturale. Credo che bisognerebbe fare dei correttivi affinché siano allo stesso tempo date delle risposte sia alla fluidità del traffico sia comunque agli interessi del cittadino. E l'appello è per il sindaco affinché riveda la decisione magari confrontandosi con i commercianti. E dato che lui ha parlato di far rivivere il commercio in questa zona in questo modo lo fa morire totalmente e lo sappia veramente il signor sindaco perché non deve solo pensare altre cose ma deve pensare anche alla vivibilità delle persone in questa zona. A Salerno sono pronti a ripartire i lavori di ripavimentazione del corso Corso Vittorio Emanuele interrotti durante Lucida Artista lo ha annunciato il sindaco Enzo Napoli sentiamo. Dopo la pausa natalizia dovuta alla manifestazione Lucida Artista è pronto a ripartire il cantiere per la ripavimentazione di corso Vittorio Emanuele a Salerno a dirlo il sindaco Vincenzo Napoli che ha illustrato gli interventi di restyling in programma in città prima dell'estate e della ripartenza della stagione turistica. Sul corso credo che ripartiremo fra una ventina di giorni con ci sono dei problemi di sottosevizi che non erano stati valutati e questo ha comportato anche la chiusura durante Lucida Artista perché quel pezzo di cantiere doveva essere consegnato prima dell'inizio di Lucida Artista l'impresa si è trovata in un dedalo misterioso di sottosevizi cavi corrugati e quant'altro quindi ha ritardato e siamo stati costretti a chiuderla su invito anche delle forze della sicurezza per fare Lucida Artista ora si riprende e credo che andremo avanti con un bel ritmo si rifà il look anche il lungomare cittadino lungomare stiamo rifacendo tutta la rete insomma è una cosa importante e abbiamo anche l'occasione per rifare un po' di manutenzione abbiamo fatto una manutenzione su tutte le panchine abbiamo sostituito le doghe dappertutto faremo la riunione di Santa Teresa da qui a breve Riunione dei genitori e della dirigenza della scuola Torre a Benevento per scongiurare l'ipotesi di trasferimento degli studenti in corso d'anno ascoltiamo i dettagli con Maria Teresa De Lucia Erano pronti a portare la questione all'attenzione del ministro Valditara ma le rassicurazioni espresse dal comune hanno finalmente placato gli animi di genitori e dirigenza che questo pomeriggio si sono riuniti per discutere le sorti degli allievi dell'istituto Federico Torre di Benevento sembra scongiurato infatti il rischio di un trasferimento degli studenti ad anno in corso per consentire i lavori di rifacimento dell'edificio è quanto chiariscono il sindaco Clemente Mastella l'assessore alle opere pubbliche Mario Pasquariello ed il consigliere delegato all'istruzione Marcello Paladino spiegando che i lavori saranno consegnati entro la data del 31 marzo per rispettare i tempi del finanziamento del PNRR ma la ditta ha assicurato che le attività didattiche fino alla fine dell'anno scolastico proseguiranno nello stesso plesso scolastico immaginare un trasferimento come era stato paventato da ripeto in occasione della riunione che c'è stata a Palazzo Mostri il 22 gennaio sarebbe stato assolutamente e tecnicamente impossibile appena l'invalidamento dell'anno scolastico perché abbiamo una soglia minima di lezioni giorni di lezione che deve essere raggiunta e non sono previste deroghe se non per eventi particolari come cataclismi o eventi atmosferici particolarmente avversi io avevo avuto comunque rassicurazioni da parte degli assessori competenti che insomma l'anno scolastico si sarebbe chiaramente concluso prima ancora di questo chiarimento scritto da parte dell'amministrazione che tranquillizza un po' tutti giustamente La cultura a Napoli nella Cappella San Severo è stata inaugurata la mostra Haravec dedicata alle intuizioni e alle invenzioni del principe di San Severo sentiamo Filippo Notari 14 tavole a colori consentiranno di rivivere i principali esperimenti del principe di San Severo e di esplorare in maniera inedita le sue invenzioni è dedicata interamente a Raimondo di Sangro la mostra Haravec inaugurata oggi nella Off Gallery del Museo Cappella San Severo di Napoli le intuizioni del principe sono state riprodotte dall'artista Daniela Pergreffi su richiesta della direttrice museale Maria Alessandra Masucci il progetto ha l'obiettivo di fornire per la prima volta una rappresentazione visiva dei principali esperimenti del principe i farmaci miracolosi le gemme artificiali il vetro colorato il lume perpetuo la riproduzione del miracolo di San Gennaro e tante altre oltre alle 14 tavole all'interno della navata della Cappella San Severo sarà esposta l'illustrazione della carrozza marittima affiancata all'incisione settecentesca originale la mostra aperta al pubblico proprio a ridosso del compleanno del principe di San Severo sarà aperta fino al 4 marzo E' tutto per questa edizione serale di 8 Channel News grazie regia ad Orlando Matarazzo buona serata arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti